Dal 1996 è la rassegna cinematografica espressamente dedicata ai registi esordienti del cinema italiano. Torna per la sua 24esima edizione Roseto Opera Prima, sei serate con ingresso gratuito dal 16 al 21 luglio in Piazza della Repubblica a Roseto degli Abruzzi con proiezioni di film e ospiti di assoluto spessore. Lo scorso anno abbiamo avuto il patrocigno RAI, confermato anche quest'anno, in più da quest'anno siamo gemellati con il Festival del Cinema di Maratea. Abbiamo una novità, tra gli ospiti ci sarà anche Angela Prudenzi che presenterà un corto durante queste serate che è membro della commissione che sceglie i film e la mostra del cinema di Venezia. Quindi anche qui abbiamo voluto dare un segnale, far sì che Roseto Opera Prima potesse avere tra i protagonisti il massimo in tema di cinema in Italia. Oltre ai tanti ospiti, il premio alla carriera Sandra Milo, Carmen Russo, Claudio Gioè, tanti ospiti che verranno e che arricchiranno questa edizione di Roseto Opera Prima in attesa della 25esima edizione del prossimo anno che sarà un'edizione particolare e speciale sotto tutti i punti di vista. Quest'anno ci siamo raffinati, ci siamo raffinati, avremo un grande debutto, una prima serata con Walter Veltroni e Mariella Nava che si presta appunto a suonare anche delle musiche del film di Walter Veltroni come regista. Avremo tanti ospiti durante la serata. Il taglio sarà sempre pop naturalmente, nel senso che sarà sempre più incentrato su degli ospiti che sono un ibrido, se vogliamo, cioè che lambiscono il mondo dello spettacolo a 360 gradi pur conservando sempre il cinema come punto di riferimento. Io ritengo che Roseto Opera Prima è la manifestazione più importante dell'estate, sia sotto un punto di vista culturale che turistica. Ovviamente quando parlavamo di Roseto Opera Prima dobbiamo anche ricordare Tonino Valeri che è stato ideatore e direttore di Roseto Opera Prima fino al 2013. Penso che quest'anno, come negli ultimi due anni, sarà veramente una delle serate bellissime e interessanti e di alto livello.